Il sindaco di Naro Lillo Cremona ha scritto alla Regione al Prefetto contro le disfunzioni in rigue del Consorzio di Bonifica AG3 che nei giorni scorsi sono state al centro di un incontro con numerosi agricoltori del luogo e con i loro rappresentanti confederali. Pur prendendo atto delle ragioni dei lavoratori del Consorzio di Bonifica AG3, verso i quali è doveroso esprimere solidarietà, il sindaco ha stigmatizzato i danni che possono derivare alla produzione agricola, specialmente in questo periodo di calura ad elevatissime temperature, a causa dell'astenzione al lavoro per due ore giornaliere da parte dei stessi lavoratori che restano riuniti in assemblea sino alle 10 del mattino. Inoltre il sindaco Cremona ha sottolineato che l'eventuale sciopero proclamato per il 4 agosto prossimo potrebbe essere una vera e propria calamità per produttori agricoli che resterebbero per un'intera giornata senza irrigazione dei loro campi. Ho scritto all'assessorato regionale dell'agricoltura, all'ufficio del commissario straordinario dei consorsi di Bonifica e alla Prefettura, dice il sindaco, affinché possano adoperarsi nella composizione dell'avvertenza con i lavoratori del consorzio di Bonifica G3 in modo che possa tornare alla normalità il servizio di distribuzione agricola nei campi dei produttori agricoli dell'Interla. Peraltro conclude, ho anche anticipato la lettera mediante una telefonata a tutti per rappresentare l'urgenza del caso ed eventualmente formare un tavolo tecnico per avere a conclusione prima del 4 agosto le problematiche sollevate.